Un altro domani. Anticipazioni puntate, dal 13 al 17 marzo 2023. Grave incidente per Tirso. Lunedì, 13 marzo 2023. Angel e Ines pensano che sia arrivato il momento di dare ad Alicia l'addio che merita e, mentre organizzano qualcosa in sua memoria, scoprono ulteriori indizi sull'omicidio. Leo irrompe nel bel mezzo dell'evento dedicato ai mobili per fare un discorso in pubblico, in cui dichiara tutto il suo amore a Giulia e chiede scusa per quello che ha fatto. Giulia ne resta sorpresa, ma decide di dover dare delle spiegazioni a Tirso. La infante replica con parole molto dirette e sincere davanti a tutti, e l'albergatore ne resta così colpito che lascia immediatamente l'evento. Dani fa di tutto per avere un confronto con Chloe e per cercare di ricucire il rapporto con lei. Il ragazzo è profondamente deluso da se stesso e cerca in tutti i modi di correre ai ripari. Dal canto suo Chloe trova conforto soltanto in Ribero, che sembra essere l'unica persona in grado di capirla. Francisco non accetta la relazione tra Carmen e Victor ed al contrario accusa il giovane di essere responsabile dell'attacco alla fabbrica. Carmen è disposta a tutto per dimostrare la sua innocenza, dopo che Francisco ha ricevuto una soffiata anonima che incolpava Victor. Martedì, 14 marzo 2023. Carmen è convinta che l'unico modo per dimostrare l'innocenza di Victor in questo caso, è individuare l'identità della persona anonima che l'ha accusato. Angel cerca di recuperare il suo rapporto con Ines, che si è incrinato dopo l'omicidio di Alicia e sembra essere ancora ben diverso da quello di un tempo. Ines però è sfuggente e gli dice che non intende più vivere un amore clandestino, con tutti i pericoli del caso, come ha fatto finora. Julia esce dall'evento per andare a parlare con Tirso ed i due hanno una discussione molto agitata. L'albergatore si allontana ma proprio mentre sta per attraversare la strada viene investito, finendo vittima di un grave incidente. La infante è scioccata e disperata e chiama subito i soccorsi. Una volta arrivati in ospedale, tutti hanno conferma che le condizioni di Tirso sono gravi. Julia è preoccupatissima e si sente anche in colpa per quello che è successo. Leo cerca di starle accanto ma senza troppo successo e la spinge a tornare a casa per riposarsi un po'. Lo psicologo va a casa con lei per cercare di farle superare il trauma, ma Diana non si fida affatto di Leo e di quello che sta facendo. Mercoledì, 15 marzo 2023. Eric torna a Robledillo in tutta fretta da Tenerife per vedere lo zio e capire meglio quali siano le sue condizioni. Si scopre che la responsabilità dell'attacco è di Patricia, così Francisco decide di far continuare la donna a lavorare lì, ma non se la sente più di stare fianco a fianco con lei tutti i giorni. Francisco dice a Carmen che non se la sente di occuparsi di Patricia e le chiede se può essere lei a lavorare con la Godoy. Ovviamente anche la giovane Villanueva ha molte difficoltà a passare tutto quel tempo con la persona che li ha traditi. Patricia però non si accontenta e vuole recuperare lo status che aveva fino a poco tempo prima. Per farlo, inizia a pensare che sia arrivato il momento di far venire alla luce la relazione tra suo figlio e Ines, di cui lei ormai ha l'assoluta certezza. In questo modo potrebbe avere la possibilità di manipolare Ventura, di ricattarlo o di ottenere qualcosa da lui. Gli abitanti di Robledillo sono scioccati ed in apprezzione per l'incidente di Tirso ed anche tutti i lavori ed i progetti del mobilificio vengono temporaneamente sospesi. Giovedì, 16 marzo 2023. La prognosi di Tirso è molto più grave di quanto si pensasse inizialmente e l'albergatore non riesce nemmeno a parlare con il nipote Eric. I sensi di colpa di Giulia non fanno che aumentare e la ragazza si ritiene responsabile dell'incidente, in quanto in quel momento stava proprio litigando con lei. Leo cerca di starle accanto e di farle capire che in realtà non ha fatto niente di sbagliato. Diana non è affatto contenta della situazione ed è certa che Leo stia approfittando del dramma per ingannare nuovamente Giulia. Elena ed Eric continuano a rimanere in attesa in ospedale per stare al fianco di Tirso e per poterlo vedere. Il medico offre la possibilità ad Elena di andare a vedere il suo amico, ma quando lo vede la donna resta sconvolta. Non era pronta a vedere Tirso in quelle condizioni e sperava che stesse meglio di così. Ines riesce a convincere Ventura a far trasferire Patricia a casa sua, e Carmen viene a saperlo. Immediatamente la Villanueva si mette in allarme, certa che questa possa essere una manovra di Patricia per fare ancora il doppio gioco sia con loro sia con Veles de Guevara. Venerdì, 17 marzo 2023. Giulia è molto nervosa e si sente ancora tanto in colpa per quello che è successo a Tirso. Elena è molto preoccupata per la infante perché si rende conto che sta davvero male e non sa come fare per aiutarla. Al contempo è consapevole che Giulia prima o poi dovrà andare a trovare Tirso in ospedale, anche se per il momento non se la sente. Patricia decide di avviare una nuova strategia e cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con Francisco. Carmen si rende conto fin da subito che si tratta soltanto di un modo della Godoy per continuare a fare il doppio gioco con Francisco e contemporaneamente anche con Ventura, quindi di fida di lei. Linda ha un'idea per rendere suo padre orgoglioso di lei e per realizzare il suo sogno dopo il fallimento del Rio Club. Chiede un aiuto ad Angel per cercare di iniziare a mettere in pratica il suo progetto ed Angel valuta questa possibilità. Voi che cosa ne pensate? Credete che Tirso riuscirà a riprendersi dopo l'incidente e cosa succederà tra lui e Giulia? A voi i commenti! Grazie a tutti!